Ciao a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Riff da Divano, la rubrica del canale dove, Frida permettendo, proverò a suonare per voi un riff di chitarra comodamente seduto sul divano di casa. Come ogni volta vi ricordo di iscrivervi al canale con il tastino che dovrebbe essere qui, ci provo, però non sono sicurissimo, forse qui, ok, e di attivare la campanella per le notifiche. Come avete visto dal titolo, oggi abbiamo forse il brano, uno dei brani più famosi dei Pink Floyd, che è Wish We're Here, sicuramente è uno dei brani acustici più famosi al mondo, quindi diciamo già dalle prime note tutti la conoscete, tutti l'avete ascoltata più di qualche volta. Vi lascio a Riff, ci sentiamo dopo per qualche parolina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In realtà questa volta non c'è la patch per il Line 6 Helix, la chitarra è una Martin, una OMCP A1, nel preamplificatore ha già 7 impulse response relativi a 7 chitarre diverse, quindi diciamo il suono del preamp già emula 7 chitarre microfonate, quindi ho utilizzato, onestamente non ricordo quale sia l'emulazione nel dettaglio, quindi la patch non è utilizzabile, non è ricreabile. Per quanto riguarda il Line 6 Helix ho utilizzato semplicemente un po' di di riverbero e il compressore a fine catena, quindi nulla di particolare. Ok, io come ogni volta vi ricordo la gentilezza di iscrivervi al canale con il tastino che dovreste trovare qui e di attivare la campanella per le notifiche. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo riff e una nuova patch. Frida mi posso alzare? Dovrei andare in bagno. Ti prego. Frida? Frida? Frida devo andare in bagno? Ti prego. Frida? Mi posso alzare? Ti prego. Frida? Mi posso alzare? Ti prego. No.